Il vice sindaco di Eboli Cosimo Pio di Benedetto ieri sera ha risposto alle domande della giornalista Rosaria Sica nel corso della trasmissione speciale TG News. Il vice sindaco ha chiarito gli aspetti inerenti al prossimo consiglio comunale parlando dei debiti fuori bilancio ed ha annunciato il prosieguo dell'amministrazione nel voler incidere con le cose fatte da fare per migliorare Eboli. Infine ha fatto una riflessione sulle prossime elezioni ebolitane fra un anno e mezzo. Quindi immagino che le prossime elezioni sarà candidato al fianco del sindaco Cariello, qualcuno ha detto che addirittura potrebbe essere lei stessa in prima persona candidato al ruolo di uno cittadino? Magari l'altro mandato? Io da diversi anni ho creduto nel progetto Cariello per cui Cariello avrà in me sempre un leale collaboratore, un leale assessore adesso, un leale consigliere se Dio lo vorrà la prossima volta, ma soprattutto avrà in me una persona vicina che cercherà nel suo piccolo di fare tutto quello che è possibile per portare avanti i progetti che Cariello stesso mette in grandiere.